Benvenuti cari cripto affezionati in questo nuovo video dedicato alla nuova testnet ovvero airdrop completamente gratuito quindi 100% non dovremo utilizzare dei nostri capitali l'abbiamo già visto anche in live, ne ho parlato anche su telegram però oggi andremo a vedere proprio quello che dobbiamo fare direttamente su questo nuovo progetto airdrop in testnet che però andremo a utilizzare per interagire anche con un altro progetto che si trova attualmente in mainnet se questi video vi piacciono lasciate un bel like e iscrivetevi al canale direi di non perdere tempo, passare a schermo e scoprire quello che dobbiamo fare e specialmente di quale progetto si tratta Eccoci quindi cripto affezionati su Inisha che è un progetto che ormai abbiamo visto qualche tempo fa con un altro progetto ovvero il buon Blackwing che vedete appunto built su Inisha, anzi con Inisha in questo caso quindi è l'altro progetto che già ci fa farmare comunque questa tipologia di progetto bene quindi però adesso Inisha come vedete da questo post ha lanciato completamente e ufficialmente la testnet che abbiamo già visto appunto sugli altri social però oggi andiamo a vedere un po' come poterla esplorare da questo punto di vista ovvero dobbiamo andare all'interno della Inisha app, la testnet Inisha app qua che cosa dovremmo fare? Allora avremo due opzioni in realtà da poter creare perché connettendoci alla testnet di Inisha noi avremo come vedete qua Inisha Wallet e possiamo anche utilizzare in realtà svariati altri wallet in realtà allora io vi dico, io sto utilizzando entrambi i wallet quindi ho fatto un account con Kepler e un account con Inisha Wallet Inisha Wallet vi metto sempre nella descrizione il link per fare il download del wallet se volete utilizzarlo e diciamo una cosa in più, con Kepler funziona un po' meglio devo essere sincero un po' meno buggato Inisha da qualche altro problemino però comunque questo è poco importante io adesso mi collego con quello che ho fatto su Inisha che è praticamente nuovo, ok? quindi non ho ancora interagito con niente e nessuno vediamo un po' se gli asset, ok? in questo caso me li aveva già contati Inisha Wallet perché l'ho fatto senza pensarci comunque se andiamo su XP quello che vediamo in questo caso che cos'è? allora abbiamo la sezione dove dobbiamo andare a build a Jenny Jenny è l'NFT finale che ci permetterà appunto di avere questo personaggio che dovremmo sostanzialmente accudire quindi da questo noi che cosa dobbiamo fare? dobbiamo andare a completare queste 6 task queste 6 task che cosa prevedono? allora il primo è il Fouchet quindi vi dovrete collegare sul Fouchet semplicemente e richiedere i token quindi dovrete incollare il vostro wallet e avere appunto a ricevere questi 30 Inisha iniziali adesso però stanno aumentando e aggiungendo comunque delle task io ad esempio il Fouchet l'avevo fatto senza problemi potete provare ma potrebbe darvi delle problematiche dicendovi che non siete verificati quindi che cosa dovete fare? dovete venire sul server di Inisha in questo caso ok? e vi metto sempre il link sotto in descrizione da qua dovrete andare in Fouchet Verification io oggi... ecco qua adesso me li ha tolte vabbè... dovrete andare su Verify ok? una volta che sarete su Verify andate a seguire e rispondere su questa dicitura io qua devo fare F1NBQ vediamo un po' che sta bugando anche questo quindi ok io ho avuto il ruolo adesso in realtà dovete farlo più volte e poi richiedere che venga riverificato perché non dà il ruolo spesso quindi dovete avere il ruolo del Verification Fouchet e poi poter ritornare comunque sul Fouchet di Inisha però provate lo stesso anche senza farlo successivamente dovrete fare il Mint quindi qua avrete la vostra password da inserire ok? una volta che siete dentro fate Approve pagate con le vostre fees ovviamente tutto in test andate mi raccomando poi una volta fatto questo tra l'altro con le carte di Yu-Gi-Oh! bellissimo dovrete andare a Buy and Assign Inisha Username quindi andate in questo sito per prendere il vostro username io in questo caso sull'altro wallet ce l'ho già ok? quindi ora dovrei disconnettermi da questo e ricollegarmi però sostanzialmente seguite qua Hunter quindi lo seleziono ok? in questo caso è già stato preso vabbè ce l'hanno già però andrete a pagare 5 Int del Fouchet che voi avete ricevuto quindi una volta che lo andate a prendere siete a posto quindi siete già con il vostro username ma anzi adesso andiamo indietro comunque Hunter Irdrop ok Ipunter in questo caso lo voglio prendere 0 Init ok? faccio di nuovo un approve perché prima ho fatto un ho prolungato e ho esteso ma non era il mio quindi ho regalato a qualcuno l'estensione sostanzialmente ok? adesso l'ho preso registration complete Torniamo indietro e qua adesso aspettiamo che poi si vada a completare e facciamo il Mint dell'altro NFT poi dovremo andare in Swap ok? che semplicemente lo trovate anche qua sopra in realtà però se cliccate lì almeno vi viene fuori tutto e state più sereni andate in Next confermate fate lo Swap di quello che volete ovviamente non c'è una cifra o una coin specifica sulla quale dovete andare a creare lo Swap quindi bene fatto questo andiamo di nuovo su XP adesso quello abbiamo fatto ce lo dobbiamo ancora leggere andiamo anche su Stake Int che trovate sempre nella stessa pagina però la quale almeno va via diretto qua Iper Hunter ok mettiamo nei 4 qualsiasi a caso vi dico la verità non sto a guardare il validatore attualmente al quale lo do perché essendo in testnet non mi interessa e come vedete qua poi successivamente quando ci sarà quando partirà ci sarà un unbounding di 7 giorni per riceverlo ok ritorniamo su XP qua intanto devo ancora caricare bene abbiamo fatto lo Stake degli Init adesso andiamo a mettere gli Init nella LP in questo caso scegliete quello che quello che volete e qua vi dico attenzione a quelle che compaiono qua come monete fateci caso perché è molto importante poi arriviamo anche a questo a questo punto in questo caso andiamo a prendere Init ok mettiamo 3 Init facciamo Next Trusted Point va bene ripeto in questo momento scegliere il validatore cioè uno vale l'altro non c'è una specifica che ci può interessare ok go to my page quindi abbiamo il nostro deposito sia di Staking che nell'LP bene quindi è avvenuto ok abbiamo fatto tutto dobbiamo aspettare poi il Claim Staking Rewards quindi da qua noi vedremo delle Rewards che usciranno e poi dovremo fare il Claim direttamente adesso faccio Reject perché non c'è nulla ricarichiamo un attimo vediamo un po' se escono fuori ok dobbiamo aspettare che il Mint esca fuori da queste una volta che voi avrete il Mint potrete ovviamente proseguire con delle altre tasche interne per accumulare più punti del progetto siccome adesso non mi fa venire fuori il Mint vado a prendere un altro account e vi faccio vedere come e cosa si presenta ok adesso io ho questa qua ho davanti appunto questa situazione qua del buon del buon initial ovvero una volta che ho fatto unito tutti gli NF ho questo BB Genie ok che è il livello 1 sostanzialmente iniziato ora e riguarda il primo week quindi guardate quante week ci sono insomma non sono pochissime sono comunque un due mesi di test quindi sostanzialmente ci sta per accumulare comunque più interazione possibile allora in questo caso poi che cosa abbiamo abbiamo qua gli XP balance quindi quelli che accumuliamo continuamente abbiamo i claimable XP che ogni 16 ore possono essere presi e poi abbiamo il referral code questo qua vi serve come vedete qua da utilizzare per prendere dei boost di XP quindi se inserite ad esempio il mio codice ok qua prendete 50 XP in più prendete 30 per seguire in iscia su x e 25 per ogni discord roll che esce fuori poi qua avete feed geni allora feed geni è importante perché qua dentro voi avete io adesso gli ho già dato da mangiare quindi non posso farvi vedere ma ci sono tre categorie di qualità diversa e in base alla esperienza quindi 300 700 e 1600 mi sembra potete andare a tirare un po' girare questa ruota della fortuna per vedere che cosa vi esce come cibo di qualità ogni volta che completate ovviamente salite di livello sostanzialmente potete andare a fare l'upgrade food tramite esperienza o fare buy more food questo qua è appunto quello che vi dicevo scusate non 300 ma 200 700 e 1700 io ho provato quello da 700 ovviamente mi sono preso quello più basso ovviamente ma questo è normale come su reia che mi prendevo sempre soli per 2 e basta però ecco questo è quello che serve per portare su geni successivamente che cosa abbiamo abbiamo qua earn more initial xp abbiamo in questo caso 4 dap specifiche e da qua noi andando a interagire all'interno possiamo maturare comunque delle xp che poi possono essere accumulati e claimabili comunque direttamente qua per generare e cercare di aumentare il livello di geni ad esempio blackwing quello che possiamo fare su black è andare adesso ad aprire le operazioni su blackwing io l'ho provato un po' con tre operazioni molto semplici e molto piccole giusto per capire un po' come come funzionasse e sono semplicemente long e short in pratica con lo slippage ma non c'è tp stop loss eccetera voi aprite in base a dove volete andare e qua vi danno dei boost i boost vi danno convertibili in base a quello che voi avete di xp scusatemi si di xp di blackwing i boost possono essere in questo caso convertibili quindi 91 bxp sono 9149 boost che potete utilizzare poi all'interno io adesso stavo un attimo cercando di di districarmi un po' e vedere un po' quanto potesse contare qua come vedete il blackwing boost is enabled quindi le vostre posizioni farmano anzi un 4x del pnl senza essere appunto liquidati quindi questo è utilizzo e comunque interessante per poter utilizzare blackwing e poi anche poter andare ad accumulare comunque xp su geni quindi sull'nft qua di fianco se vedete c'è anche il blackwing chain wallet e il minimove chain wallet quindi avete diverse comunque chain nuove che potete utilizzare per inviarvi i vostri capitali tramite inisha attenzione è quello che poi vi servirà per interagire poi avete anche altri 3 c'è anche in itai che sostanzialmente adesso ne prendo uno a caso è per fare il mint dell'nft vediamo un po' se adesso me lo fa fare non mi sembra adesso ne prendo uno a caso potete andare a prendervi ovviamente quello che volete fate il mint fate il mint fate prendete l'nft che volete fate mint ok e qua vi dice che dovete avere un init required mint nft e voi avete bisogno di un layer 1 quindi transfer quindi utilizzare il bridge per inviare i vostri inisha tramite questi questi siti e sostanzialmente dice che dovete prendere i testnet fauciet prima di tutto e poi inviarveli perché se voi cliccate su initia bridge qua vedete che l'initia bridge è quello che serve per spostare i vari capitali in questo caso quelli che abbiamo comunque su Kepler o initia quello che avete scelto select network e qua vedete che le network sono identificate tra le varie differenze di dap sostanzialmente quindi initiai io qua metto il my address in questo caso ok quello che mi voglio inviare e select token io voglio inviarmi ovviamente dei select token dei init adesso vediamo ok uno infatti mi compare in questo caso però ne ho bisogno più di uno io qua ne faccio un altro direttamente e lo mando sul mio wallet sempre lo stesso però direttamente sul mio canale quindi sul mio sito col quale sto interagendo in questo momento request reject ecco anche qua stanno avendo continuamente comunque problematiche cioè davvero è una fatica pazzesca in questo momento e anche prima ci ho riprovato ma niente da fare vediamo un po' submit perché come vedete quando vi ho fatto vedere li leggeva uno l'avevo già provato a mandare e lo leggeva ok transaction complete quindi è stato inviato direttamente a initai quindi direttamente sul sito quindi su questo se noi andiamo su go my page no scusate ho sbagliato su questa qua adesso vediamo un po' se ce lo legge asset ok due quindi ce ne abbiamo andiamo a sceglierne uno scegliamo questo ok quindi io voglio enter a prompt to mint nft iniziate cut with pet and initial coin with purple color caso vediamo un po' fate approve ok in questo caso ci mette parecchio e quindi dovete aspettare che esca fuori poi per fare il mint effettivo e ultimarlo adesso andiamo a vedere anche le altre e qua abbiamo anche launch e tucana e in questo caso sono altre due d'app dove voi potete andare ad interagire creando comunque interazione io ad esempio questo non lo farò perché è su test flight per l'iphone e non ho voglia di interagire con un'app test c'è google play invece per android è già disponibile potete utilizzarla e potete appunto registrarvi e collegarvi mentre tucana stessa identica cosa abbiamo faucet perpetual ed ex sostanzialmente dovete andare ad interagire facendo il bridge come abbiamo visto prima quindi andando sul bridge ok quindi andiamo in home andate a selezionare ad esempio tucana public testnet stessa cosa il mio wallet e vado ad inviare comunque in questo caso gli inisha sempre quindi io qua mi vado a collegare come al solito faccio degli swap metto nelle pool insomma interagisco da questo punto di vista se andiamo sul faucet vediamo un po' che cosa ci da penso ci dia quello di ok bridge faucet tucana ok qua ci da il wallet che vogliamo utilizzare quindi ad esempio io vado su inisha inserisco il mio wallet ok facciamo il claim una volta che li avete questi sono dei token in più che potete avere per interagire sul dex di tucana ok che vi serve poi da qua con lo swap come vedete che c'è anche tucana vediamo un po' se c'era ho visto ok non c'è più tucana non so perché mi sembrava di aver visto tucana devo essere sincero bisogna vedere poi se effettivamente è solo per per il bridge e come si può utilizzare comunque anche dal faucet di tucana potete andare a prendervi eccoci qua ok niente ho visto qualcosa che non c'era va bene va bene lo stesso questo non so però ecco vi serve poi per fare il bridge e io lo farei lo stesso comunque per fare delle interazioni in più poi tutto questo ovviamente viene accumulato qua dentro e voi potete accumulare continuamente XP per poi dare più possibilità di crescita al vostro NFT molto probabilmente le DAP aumenteranno quindi adesso sono partite con queste quattro ne arriveranno delle altre che ci potranno dare poi ulteriormente altre interazioni e nuove task ok intanto qua è andato a buon fine qua dice waiting server response ma è finito se voi andate in my eccoci qua mi dà il mio eccolo qua il my kitty cyberpunk kittens ok questo è quello che che mi è venuto fuori quindi carino carino niente male quindi questo è quello che dovete fare per interagire e avere nuove attività all'interno bene cripto afezionati abbiamo visto che Inisha dà delle possibilità di ecco utilizzare e farmare più airdrop messi insieme quindi questa cosa è già molto interessante perché seppur siamo su una testnet possiamo effettivamente farmare qualcosa che è già in mainnet da questo punto di vista quindi ecco questo connubio ci rende sicuramente molto più interessanti e appetibili se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale e accendete la campanella per rimanere sempre aggiornati